Ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro Tg Pomeriggio. Vediamo che cosa è successo in questa giornata arrivati a questo punto, a questo orario. Ovviamente con il supporto del nostro sito newsrimini.it, vediamo quali sono le notizie principali e facciamo prima una panoramica generale. Abbiamo in apertura i nuovi collegamenti dell'aeroporto di Rimini, arriva EasyJet. C'è stata una presentazione ieri e quindi ci sono state presentate tutte queste novità. Poi si continua a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli, due video a confronto, un super perito fugherà ogni dubbio ed escontro tra accusa e difesa. Ancora in home page, ecco il progetto Responsible Health and Performance Center, obiettivo fine 2025 e che cos'è? È la nuova casa del Rimini Football Club. Allora andiamo avanti e cominciamo con la cronaca in particolare, lo abbiamo detto, micidio Pierina. Ci sono adesso due video a confronto e questa mattina alle 11 al Tribunale di Rimini è fissata l'udienza a porte chiuse, quindi è in corso per il conferimento dell'incarico a questo super perito che è chiamato a fugare ogni dubbio sul famoso video che per la procura incastrerebbe Luis da Silva. Sentiamo. È scontro sui filmati della farmazia San Martino che per la procura di Rimini sono la prova della colpevolezza di Luis da Silva, mentre per la difesa rappresentano la sua innocenza. Sono due i video al centro dell'indagine. Il più celebre è datato 3 ottobre 2023 e per l'accusa mostrerebbe il senegalese transitare davanti alla Camp 3 alle 22.17 e dirigersi verso il civico 31 di Via del Ciclamino dopo aver ucciso Pierina. Diversa è invece la ricostruzione che ne danno gli avvocati di da Silva, Reario Fabri e Andrea Guidi, secondo i quali l'ignoto ripreso dalla telecamera della farmacia sarebbe un vicino di casa che abita sempre in Via del Ciclamino ma in un altro civico e che nulla centrerebbe con il delitto. Lo stesso vicino però, sentito in questura dagli investigatori della squadra mobile, ha dichiarato di non riconoscersi nel filmato del 3 ottobre, seppur davanti ai giornalisti abbia affermato il contrario, ma di riscontrare degli elementi di somiglianza nel soggetto a sinistra del filmato datato 30 settembre 2023, quali gli domandano i poliziotti e lui risponde i capelli brizzolati, la camminata, gli occhiali e la tracolla del marsupio appoggiata sulla spalla destra, dove la porto io di solito. Ad occhio nudo, la valutazione dei due video rimane particolarmente complessa, se non impossibile. Ecco perché il GIP del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, domani conferirà l'incarica a un superperito di sovrapporre e mettere a confronti i frame dei due video, ma non solo, perché in incidente probatorio si eseguiranno anche nuovi rilievi direttamente in via del ciclamino e proprio con i due soggetti interessati, ovvero il vicino di casa e da Silva, se quest'ultimo darà il suo consenso all'esperimento. Da Silva, intanto, potrà lasciare per qualche ora il carcere dei casetti per raggiungere il Tribunale di Rimini e partecipare, insieme ai suoi difensori, all'udienza. Oltre a lui, saranno presenti anche gli avvocati delle parti offese, Davide Barzan, in qualità di consulente criminalista, e l'avvocato Nunzia Barzan per Manuele e Loris Bianchi e gli avvocati Monica e Marco Lunedei per i figli di Pierina. E continuiamo con la cronaca dal nostro sito per questa notizia di questa violenza sessuale di gruppo. C'è stata una misura cautelare per due giovani, la vittima ha 16 anni, quindi ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Tribunale di Rimini e dal Tribunale dei Minori di Bologna. Nei confronti di due persone indagate per violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 16 anni, sono un neo 18enne della provincia di Pesaro Urbino e un minorenne di 17 anni invece della provincia di Rimini. La vicenda è quella che ha coinvolto lo scorso agosto la ragazzina che aveva chiamato i soccorsi dopo essere stata scaricata in strada, dopo aver subito rapporti sessuali non consenzienti poco prima, con due sconosciuti, questo ha raccontato. Trasportata al pronto soccorso di Rimini è stata medicata dal personale sanitario che aveva confermato gli abusi di cui era stata vittima la ragazza, l'avevano dimessa con 30 giorni di prognosi. I carabinieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato ieri mattina esecuzione delle due misure cautelari. Il 18enne è nel carcere di Pesaro, mentre il minore è stato portato all'Istituto Penale per Minorenni di Bologna ed è in attesa di essere interrogato per la convalida delle misure. A confermare le loro responsabilità, anche i profili del DNA prelevato dal personale sanitario sulla vittima e poi analizzato dal RIS di Parma. Poi insomma hanno raccolto anche i pochi ricordi della 16enne, quello che è riuscita a ricostruire e hanno acquisito registrazione di tutte le telecamere della zona dove era stata abbandonata, che poi appunto hanno consentito di individuare l'auto utilizzata dai presunti aggressori che appunto poi sono stati presi. Andiamo avanti dal nostro sito newsrimini.it per andare a parlare di aeroporto, quindi di voli e dell'attività dell'aeroporto Fellini di Rimini. Ci sono delle novità, sono state presentate proprio ieri in una conferenza stampa. Si ampliano le destinazioni raggiungibili dell'aeroporto di Rimini per l'estate 2025. L'annuncio appunto in una conferenza stampa convocata proprio nello scalo riminese. C'erano anche Regione, Comune di Rimini e APT. Vediamo. EasyJet sbarca all'aeroporto di Rimini, un tassello importante per la crescita dello scalo e per il turismo del territorio. Il corteggiamento con la compagnia low cost da 100 milioni di viaggiatori all'anno era iniziato già nel 2017, rallentato dalla pandemia e finalmente è andato a buon fine grazie all'impegno di Rimini, ma anche di APT e Comune. Dal 16 aprile fino alla fine di ottobre l'aeroporto Fellini avrà quindi due voli settimanali, il mercoledì e la domenica, con Londra, Gatwick e Basilea. Saranno in vendita dal 19 novembre. Due destinazioni, secondo me, strategiche, sia per quanto riguarda il leisure, quindi per i flussi incoming, ma sotto certi aspetti lo sono ancora più strategiche per il business e per le connessioni, perché da Gatwick è possibile raggiungere in maniera molto agevole altre destinazioni europee, addirittura voli intercontinentali. La stessa Basilea è strategica perché congiunge al tempo stesso sia la Francia con la Svizzera che dal punto di vista turistico rappresenta il secondo e il terzo mercato della Romagna, quindi con loro si è attivato un percorso pluriannale e riteniamo che possa dare un grande aiuto allo sviluppo del territorio. Territorio che ora deve dimostrare a EasyJet che è un territorio recettivo in grado di riempire i voli e pretendere, più che richiedere, pretendere l'incremento di frequenze e di nuove destinazioni. È la prima volta che EasyJet viene a Rimini con voli di linea. Credo che anche nell'ambito dell'industria aviation, nel mercato, sia una notizia rumorosa. Questo è un territorio abbastanza nuovo per noi e per cui l'idea è quella di esplorarlo. Ovviamente pensiamo che ci sia domanda e interesse, pensiamo che questa domanda e questo interesse vada stimolato. Abbiamo trovato una grandissima facilità di collaborare con la regione, con l'aeroporto, per cui c'è sicuramente un sistema su cui fare leva per poi fare in modo che questi voli funzionino e possano continuare nel lungo termine e che a queste due rotte possano seguire anche altre nuove rotte in futuro. Corbucci stima prudenzialmente 400.000 passeggeri per il 2025, tornando ai livelli pre-Covid, ma senza il mercato russo. L'amministratore delegato, sollecitato sulla coesistenza dei quattro scali regionali, auspica che la nuova giunta faccia sedere i gestori attorno ad un tavolo, cercando la sinergia finora mancata. Non è la scelta giusta, dice, concentrare il 96% del traffico su Bologna. In tema infrastrutturale, tra i progetti di Airiminum, finanziati in parte dalla regione, c'è il miglioramento dell'accessibilità allo scalo con l'acquisizione di alcune aree di fronte all'aeroporto. Andiamo avanti per parlare di questa mattina, quando la CGL di Rimini ha presentato l'aggiornamento del piano del lavoro, un documento strategico per affrontare le sfide economiche e sociali più urgenti per il territorio. Sentiamo. Abbiamo deciso, come CGL di Rimini, di aggiornare il piano del lavoro, che fu costruito nel 2020 anche come risposta alla pandemia. Sono trascorsi quattro anni, le disuguaglianze sono aumentate, abbiamo una crisi economica, industriale crescente, abbiamo appunto temi rispetto ai quali è necessario dare delle risposte. Siamo partiti da due ambiti importanti, anzi importantissimi per noi, che sono la legalità e la qualità nel lavoro. E quindi la legalità sia nel sistema manifatturiero e in particolare nel sistema appunto turistico. In effetti nel nostro documento proponiamo di effettuare una contrattazione d'anticipo con i comuni costieri, in particolare sulle concessioni dei maniali, perché per noi è essenziale assicurare, quindi tutelare l'occupazione attraverso le clausole sociali, ma anche il tema delle legalità. E quindi che nelle gare, nei bandi e punto di gara, ci sia trasparenza appunto nei passaggi. Per questo nel piano chiediamo che sia attivato il tavolo sui beni confiscati in prefettura, che protocolli per la legalità siano estesi, oltre che nel settore turistico, anche dei pubblici esercizi. Ricordo che nel 2024 sono stati sequestrati oltre 35 milioni di euro in questa provincia. L'82% dei nuovi contratti attivati in provincia sono precari e sono a tempo determinato. Noi abbiamo bisogno di dare appunto un messaggio diverso a questo territorio. Il tema è questo. Bisogna porre sanità, trasporti e politiche per la casa fuori dalla logica di privatizzazione. Perché la privatizzazione determina un fatto che da cittadini, con la complessità dei diritti di cui possiamo godere, si diventa clienti. e i clienti accedono o meno a un servizio se hanno o non hanno disponibilità economica. Noi siamo per ribadire i diritti universali e soprattutto sulla sanità, anche attraverso un potenziamento del personale e una riqualificazione, quindi una valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità. Giornata del tumore al pancreas. Il 21 novembre anche Rimini celebra questa giornata che è promossa a livello mondiale dalla World Pancreatic Cancer Coalition e il 17 novembre a Rimini ci sarà anche un'iniziativa in più, cioè una camminata solidale con colazione. Noi abbiamo parlato ieri sera nella puntata di Tutta Salute e ci siamo occupati proprio di questo. Con chi? Con due amiche in realtà di Tutta Salute e due persone dell'Associazione Oltre la Ricerca che sono venute a raccontare le loro storie perché queste due donne in maniera diversa hanno affrontato la malattia ed erano Francesca Gabellini che è la presidente e la fondatrice dell'Associazione Oltre la Ricerca ODV che l'ha fondata in memoria di suo marito Luca Signorotti e Cinzia Mignogna che invece è una paziente è stata una paziente operata proprio al pancreas e oggi è consigliera del direttivo dell'Associazione. Vediamo uno stralcio della puntata che potete trovare sulla nostra piattaforma Icaro Play così come tutte le puntate di Tutta Salute e anche degli altri nostri programmi. Vediamo. Eravamo quindi per lavoro fuori già sposati e io ero incinta e lui si toccava costantemente la parte alta dell'addome e io mi ricordo come se fosse oggi che gli dissi Luca fate fare i controlli perché il padre era morto cinque anni prima nel 2004 di tumore al pancreas siccome io ero incinta questo bambino era tantissimo desiderato e ho detto dai ci abbiamo messo tanto siamo riusciti il nostro sogno si realizza controllati anche te visto la storia familiare. Sono passati dieci mesi così con un male costante continuo persistente e non sapevamo il motivo e intanto dimagriva. Quindi da febbraio siamo arrivati alla diagnosi il 17 dicembre ed era già metà statico al fegato. E da qui è nato il progetto da dieci a dieci cioè nel nostro caso sono stati dieci mesi e proprio quello che ci ha mosso a costituire tutto questo e trasformare quei dieci mesi in dieci giorni. Finché non ti imbatti nella malattia la malattia è qualcosa che può capitare a qualche di un altro viene sconvolto tutto perché la prima domanda che ti poni è quanto tempo ti resta da vivere ovviamente quando hai a che fare con un tumore al pancreas. Queste malattie spaventano sì ma se si prendono in tempo si possono anche curare e questo è il messaggio che io mi sento di dare è importantissimo che ogni persona al minimo sintomo non lo trascuri come siamo abituati a fare perché la vita è caotica andiamo sempre di fretta sarò mal di pancia sarò mal di schiena e se gli accertamenti danno tutti un esito negativo stanno bene tutti bene ma se questi accertamenti invece dovessero dare un esito positivo prima li prendiamo in tempo prima abbiamo la speranza di poterli curare e uscirne e grazie ancora Cinzia e Francesca per questa loro testimonianza che hanno portato in trasmissione allora vi ricordo questo appuntamento importante di domenica 17 novembre l'associazione oltre alla ricerca insieme all'associazione e gli amici del panda organizzano questa camminata solidale con colazione è una camminata di 5 km si parte alle 8 dall'arco d'Augusto di Rimini per arrivare poi in piazzale Kennedy attraverso il parco Cervi poi si continua fino alla palata del portocanale di Rimini e poi una colazione al Grand Hotel e durante la colazione verrà dedicato uno spazio proprio per parlare degli obiettivi raggiunti dall'associazione nel 2024 e anche degli obiettivi del 2025 che sono tanti perché davvero questa associazione lavora molto bene allora e adesso andiamo avanti e andiamo a parlare di un progetto importante che è stato presentato ieri pomeriggio al Palacongressi di Rimini ed è un progetto di Responsible relativo alla nuova casa del Rimini Football Club vediamo è stato presentato ufficialmente alla città il progetto Responsible Health and Performance Center relativo alla nuova casa della Rimini Calcio che sorgerà su una superficie complessiva di oltre 100.000 metri quadri nell'area ex Ghigi presenti il sindaco di Rimini Jamil Sadegolvad il presidente della Lega Pro Matteo Marani il delegato provinciale della FIGC di Rimini Maurizio Bianchi la prima squadra bianco-rossa al gran completo e un buon numero di tifosi l'area è molto importante quindi sono oltre 100.000 metri quadri di area con campi da calcio palestra polivalente per diversi sport che possono andare dal basket palavolo tennis c'è una pista ciclopodistica ovviamente non può mancare una palestra ultramoderna e molto attrezzata più tutta un'area importante riabilitativa quella ovviamente è la nostra specialità quindi ci sarà un'area riabilitativa di ultimissima generazione molto importante a disposizione il centro ovviamente è aperto alla città quindi sarà ovviamente la casa del Rimini Football Club come partner importante per Responsible ma sarà una struttura aperta a tutta la città ovviamente non mancheranno aree di ristoro esterne, interne un ristorante bar ovviamente ci sarà anche un'area una foresteria quindi sarà veramente una bella bella struttura è un sogno che si sta realizzando passo passo e per noi è un grandissimo orgoglio poter stare oggi qui e poter veder nascere questo progetto dall'inizio è un orgoglio sono emozionatissima vedere anch'io le immagini le ho viste tantissime volte però rivederlo oggi è un'emozione unica è importante una struttura come questa un'infrastruttura come questa perché permette di sviluppare calcio calcio significa settori giovanili significa ragazzi che andranno ad allenarsi dal prossimo anno anno e mezzo insomma in questa nuova bellissima struttura che oggi è stata presentata vuol dire un po' andare incontro anche a quella che è la visione nostra come serie C cioè quella di puntare sui giovani investire sui giovani investire sui vivai fare formazione e cercare di rendere un pochino più sostenibile il nostro calcio noi dobbiamo recuperare un'attenzione importante ai costi e dall'altro lato dobbiamo aiutare a sviluppare il settore giovanile il calcio giovanile tra l'altro direi che le due cose stanno insieme cioè i giovani sono anche la miglior risorsa per cercare di avere un'attenzione alla parte spese che è molto importante quindi direi che nella nuova casa del calcio italiano è importante che ci siano anche impianti e strutture come queste e con questo siamo arrivati alle previsioni del tempo vediamo cosa è previsto per oggi venerdì 15 novembre 2024 prima lo stato in regione cielo sereno salvo la presenza di nuvolosità irregolari lungo la fascia costiera e appennino romagnolo possibile formazione di banchi di nebbia dopo il tramonto nelle pianure a ridosso del Po vediamo le temperature massime stazionarie con valori intorno ai 12 gradi 20 deboli da nord ovest in pianura deboli da nord est con rinforzi al mattino sulla costa e sul mare in attenuazione dal pomeriggio mare inizialmente mosso con graduale attenuazione del moto ondoso vediamo il dettaglio su Rimini che cosa ci racconta di una mattinata un po' fosca con qualche nuvola un pomeriggio invece più sereno e anche la sera adesso vi dico che il sole sorge alle 7.05 è sorto alle 7.05 tramonterà alle 16.41 questo pomeriggio ed è tutto veramente per noi vi ringrazio vi do appuntamento alle edizioni serali del telegiornale alle 19.15 con la replica alle 20.15 buon proseguimento di giornata grazie a tutti Autore dei sorrisi